buonasera e benvenuti al bar del gotico come avrete già intuito dal mio aspetto stasera torniamo in giappone come abbiamo già fatto una volta ricordate latrina la passione del sushi e aveva deciso di fare un viaggio in giappone cosa che abbiamo fatto anche noi a livello spirituale per accompagnarla non ha imparato preparare il sushi ma comunque si è divertita stasera ci siamo solo noi ragazze eric non c'è quindi anche l'argomento della nostra puntata sarà tutto al femminile e l'avrete già intuito dal titolo che è appunto terribili yokai femminili ovvero spiriti del folklore giapponese che assumono sembianze di donna e che fanno fare una bruttissima fine allo sventurato che le sottovaluta cominciamo da lei quella che avete appena visto è la katavaguruma ovvero carro con una sola ruota è un'anima femminile dannata a vagare roteando su questa ruota tra le fiamme e maledicendo la gente che incontra questo perché mentre lei era in vita la sua anima si è aggravata di troppe azioni malvagie e dopo la morte non ha potuto liberarsi bisogna notare che la ruota è un simbolo molto forte perché il mozzo della ruota rappresenta la disciplina i raggi sono le vie della saggezza il cerchio è l'unità di tutte le cose e il moto rotatorio indica il ciclo delle reincarnazioni è avvolta dalle fiamme maledice la gente praticamente è uguale a erica quando si arrabbia latrina guarda che ti si sente benissimo da qui è ma facciamo così visto che hai tanta voglia di scherzare vediamo se ridi ancora dopo aver visto questo questa scioccante visione è la yamauba ovvero la strega delle montagne sembrerebbe una vecchietta innocua e spesso offre ospitalità ai viandanti ma nottetempo mentre sono addormentati li uccide e ne fa il proprio prossimo pasto praticamente un pochino come latrina quando vi invita a cena fate attenzione perché non saprete mai se sarete convitati o vivande va bene va bene mi hai restituito pan per focaccia allora restando in tema risate beccati questa bella storia questo enorme spettro di donna sghignazzante in giapponese dovrebbe essere detto che era che era onna cioè la donna che ride è fantasma di una prostituta di mezza età beh in passato la condizione delle prostitute nei bordelli giapponesi era insostenibile avevano orari di lavoro insopportabili prolungatissimi subivano maltrattamenti sia dal tenutario del bordello che dai loro stessi clienti la loro vita media era di poco più di vent'anni quando qualcuna di loro riusciva a raggiungere i 40 e 45 anni veniva vista come una specie di fenomeno una creatura potentissima e anche dopo la sua morte si pensava che in qualche modo la sua presenza si facesse ancora sentire nei vicoli dei quartieri di piacere e che cosa faceva questa che era che era onna essenzialmente continuava a danzare e cantare imitando pateticamente il mestiere che aveva esercitato in vita e che l'aveva condotta a una vita di stenti la sua risata prendeva di mira i clienti dei bordelli e li perseguitava fino a farli impazzire anche scappando non avrebbero potuto sottrarsi a questo suono terrificante e fra l'altro lei appariva enorme da al di sopra dei tetti dei bordelli col volto bianchissimo e la bocca dal rossetto violento un'apparizione agghiacciante che faceva scontare la propria penosa esistenza a tutti coloro che si erano approfittati di lei sarà un paradosso ma è proprio in questa storia che non c'è davvero niente da ridere passiamo al prossimo argomento stavolta non parleremo di una risata ma di un sorriso e di un sorriso per il quale non c'è alcun che dare allegrarsi questo yokai è la ohaguro bettari ovvero nient'altro che denti neri compare nottetempo presso i templi o addirittura nelle case degli uomini finge di essere la loro moglie e sembrerebbe davvero una sposina col kimono bianco però il suo volto è nascosto e quando si svela esso è una distesa bianca senza occhi e con una bocca piena di denti neri una leggenda singolare ma dobbiamo pensare alla prolungata abitudine delle nobildonne giapponesi del passato di tingersi i denti di scuro fin da bambine che sicuramente è alla base di questa credenza nella ohaguro bettari l'incontro con questo yokai ancor più che quello con tutti gli altri è un incontro letteralmente agghiacciante perché stiamo parlando della yuki onna ovvero la donna di ghiaccio ha capelli corvini intensi occhi scuri ma per il resto è gelida e bianca come la neve vive sulle montagne e quando uno sventurato vi andante vi si perde durante le tempeste di neve lei risucchia il suo spirito del quale si nutre e lo sventurato si trasforma in un povero corpo congelato ma contrariamente a quanto potremmo pensare non è del tutto senza cuore a volte si innamora e si sposa felicemente però le viene un po difficile nascondere la propria natura ultraterrena visto che non invecchia mai e soprattutto non sopporta il calore in alcuna forma al contrario della yuki onna queste altre due adescatrici invece sono del tutto senza cuore una è la harionago ovvero la donna degli uncini i giovani la possono incontrare nei vicoli bui verso sera all'aspetto di una donna seducente dai lunghissimi capelli corvini ma se il malcapitato l'approccia allora scoprirà proprio danno che sulla punta di quei lunghissimi e bellissimi capelli neri ci sono micidiali uncini pronti ad acchiapparlo e a trasformarlo nel pasto della harionago l'altra invece è un'altra predatrice la jorogumo il ragno meretrice stavolta pare che la leggenda si basi sull'esistenza di un vero ragno un ragno vario pinto piuttosto grosso e dalla ragnatela molto resistente comunque lo yokai detto jorogumo ovvero il ragno meretrice si presenta come una bellissima fanciulla attrae i giovani uomini li porta a casa sua riempiendoli di promesse e una volta l'intrappola nella propria ragnatela ovvio ovvio superfluo dire che anche stavolta l'incauto diventerà il pranzo della descatrice scusami erica ma perché tutte queste storie sono solo su adescatrici femmine e non ci sono mai storie di adescatori che ne so l'uomo ragno che poi ci sarebbe un'altra cosa o l'uomo con gli uncini o l'uomo di neve perché tutti questi yokai seduttori hanno soltanto una versione femminile e mai una maschile beh latrina e che ne so io dovresti chiederlo un vero giapponese io non sono una vera giapponese anzi chiedo scusa ai giapponesi casomai ce ne fosse qualcuno che ci sta guardando non so avrei una mia ipotesi può essere che le ragazze non avessero bisogno di questi avvertimenti perché di solito le brave ragazze non andavano in giro da sole e men che meno la sera mentre invece i giovanotti avevano un po' più di libertà e quindi c'era il rischio che facessero qualche sciocchezza e quindi probabilmente sono state inventate tutte queste leggende per scoraggiarli dal molestare le ragazze o dal farsi derubare da qualche adescatrice cose del genere meritano invece un discorso a parte i marinai e pescatori ovvero categorie di uomini che erano professionalmente a rischio di scomparsa e anche sulle loro misteriose e tragiche scomparse sono fiorite leggende che riguardano irresistibili e terribili spiriti femminili la nure onna la donna bagnata si presenta vicino alle rive di solito alle rive del mare o dei fiori ovunque ci sia acqua può assumere diversi aspetti uno dei quali è quello di una povera donna con un bambino in braccio di solito approccia il malcapitato chiedendogli di tenere in braccio il bambino per un po' per permetterle di riposarsi ma se il malcapitato le dà retta purtroppo scopre che il bambino ha un peso insostenibile e mentre lui è lì inchiodato dal peso del bambino la nure onna si rivela essere una terribile donna serpente che gli succhiera il sangue con la lingua invece l'altra è la iso onna la donna delle coste anche lei si presenta per lo più nelle regioni meridionali del giappone come la nure onna è molto simile a lei perché anche lei adesca i marinai in ambiente costiero spesso se non vuole essere vista può assumere l'aspetto di uno scoglio ma più spesso viene vista come una seducente donna che emerge dalle acque coperta da un telo leggerissimo e trasparente se qualcuno però si rivolge a lei scoprirà a proprie spese che lei è un terribile vampiro che gli succhiera il sangue coi propri capelli se le chiacchiere del nostro bar vi hanno appassionato o incuriosito abbiamo un'ottima lettura da consigliarvi per approfondire è questo libro yokai la parata notturna dei cento demoni dovreste trovarlo facilmente soprattutto su amazon è ricco di notizie e di tavole illustrate buona esplorazione nelle tenebre del sollevante buona serata e mi raccomando se andate in giappone cercate di non vedere fantasmi dappertutto no 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 no